percorso ok ero percorso percorso attualmente percorso un po' di auto ora lo ricordo ora lo non pronti percorso Sì, adesso non lo facciamo, ok, allora, ripassiamo, appoggi al fianco, così, al BIP carichi, spoggi la superficie, prendo il fucile, 1, 2, 3, Gus, 6, a rin級 di inter сознamento. Ah ok, alle apparentere fucile, questo filo, io la ripasso qui. iska. Vorrei carichare qui? 2024, 202, diesen Allahuakened. Vai. Ma poi Triperucharazzi? l'attacco un po' di più 4 4 4 4 4 a a a a a a a il carnaval c c c il porto il il l l 4 5 5 5 6 5 5 5 5 Siete qui le mani? A un carico! A un ecco! A un ecco! E vai in talità! Andamelo fuori! E lo posto! Ecco qui! Un po' in ottobre La ferita 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 ... ... ... ... ... ... ... Il problema è che si chiama il mondo. Si deve caricare qui. La cadiamo. Amm. Hai carico. che è un potere? che è un potere? ok, è un potere ok 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 Sì ok 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 No Ok No No Ok il parale deve essere anche disegnato il parale deve essere disegnato il parale deve essere disegnato